E' stato convocato per il 3 settembre per il 7 alle ore 18 il Consiglio Comunale presso il Salotto Comunale di Piazza della Cultura e della Cittadinanza del Palazzo di Città. La pubblica assise, convocata in modalità straordinaria, discuterà dei seguenti argomenti. Interpellanze, richiesta di riapertura delle scuole fiorentino in sicurezza, mozione in ordine alla delibera di giunta comunale numero 111 e 112 del 21 luglio 2020, relative alle varianti proposte dell'area ASI. Ed ancora, il recupero del complesso produttivo dismesso del quartiere Schiavo, recupero del complesso produttivo dismesso del quartiere Sant'Anna, intervento di demo ricostruzione del quartiere Belvedere, alienazione immobili in favore della società e distribuzione S.P.A. Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte chiuse nel rispetto delle norme anti-Covid-19. Inoltre i partecipanti potranno collegarsi in modalità di videoconferenza.